E benvenuti amici! Un storaggio 99! Siamo arrivati con un nuovo video, siamo tornati nella nostra creation game di FIFA 22. Oggi vi mostro come creare Leonardo Sernicola, il giovane terzino sinistro della Cremonese che tanti di voi mi avete chiesto in queste settimane. E allora, poco prima del lancio ufficiale definitivo di FIFA 23, siamo ormai arrivati negli ultimi dieci giorni di attesa. Ho deciso di farvi questi ultimi regali, insomma cercherò di portarvi quanti più giocatori possibili in questi ultimi giorni. Però ovviamente vi chiedo di pazientare, di avere comunque grande, trepida attesa per l'arrivo di FIFA 23 perché davvero vi porterò tantissimi nuovi contenuti, come mai prima d'ora. Vado alle chance però ragazzi, passiamo con la creation game di Leonardo Sernicola. Nome Leonardo, cognome Sernicola, nome sua divisa Sernicola, maglia 17, Italia, ovviamente ho messo Crotone perché la Cremonese non è presente, ma potete poi metterlo negli svincolati e comprarlo in una carriera oppure metterlo in qualsiasi altra squadra. Ovviamente il FIFA 23 sarà presente e come la Cremonese. Anno di nascita è 30 luglio del 1997. Fisico 188 cm per 77 kg. Posizione difensore, difensore terzino sinistro, piede destro. Passiamo agli attributi. Attacco 70, 40, 60, 70, 30, 3. Difesa 65, 65. Abilità 65, 55, 55, 60, 65. Potenza 55, 70, 70, 60, 65. Movimento 65, 70, 50, 65, 75. E infine mentalità 55, 65, 45, 60 e 55. Questo ragazzi per quanto riguarda gli attributi di Leonardo Sernicola. Passiamo adesso al volto, alla costruzione del volto. Passiamo subito con la carnagione. Andiamo a prendere il penultimo modello della terza fila, ovviamente, della prima slide. Sopracciglia, andiamo a selezionare il secondo modello disponibile che andiamo a trasformare in questo modo. Occhi, andiamo a prendere il secondo modello della prima fila, che costruiamo così. Naso, andiamo a prendere il primo modello della prima fila, che modifichiamo in questo modo. Bocca, andiamo a prendere, partendo dall'inizio, il quarto modello della prima fila, che prontamente creiamo così. Guance e macelle, andiamo a prendere il penultimo modello della seconda fila, che trasformiamo in questo modo. Mento, andiamo a prendere il secondo modello della seconda riga, e lo andiamo a modificare così. Orecchie, prendiamo il penultimo modello della prima riga, e lo andiamo a costruire in questo modo. Passiamo adesso ai capelli, andiamo in accessori, mi raccomando, e andiamo a prendere questo modello centrale, partendo dall'inizio, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, modello quasi centrale, anzi non quasi, centrale, sesto modello della seconda riga, partendo dall'inizio. Quindi, selezioniamo questo modello qui, con il coso in testa in cima, l'elastico in cima, colore, andiamo a mettere un colore che è una via di mezzo tra il castano scuro e il castano chiaro. Infine, passiamo a barba e baffi, andiamo a prendere questo modello, il terzo modello della seconda fila, che coloriamo in questo modo, col terzo colore disponibile, quindi andare a costruire un po' questo volto qui. Quindi ragazzi, il video termina qui, spero vi sia piaciuto, spero vi sia stato il vostro gradimento, lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Vi ricordo che FIFA 23 ci attende, ormai mancano davvero pochissimi giorni al lancio ufficiale, io inizierò a giocarci dal 30 settembre, l'ho già preordinato, ma mi arriverà il 30 settembre, gioco fisico ovviamente, perché come la tradizione il gioco si prende in questo modo, ma preparatevi davvero tutti e tanto, perché arriveranno le leggende, torneranno le leggende sul mio canale, poi tantissimi giocatori delle primavere che non sono presenti, me ne sto davvero segnando tantissimi, e soprattutto tanti giocatori che non sono presenti su FIFA, per esempio i talenti brasiliani, i talenti croati, i talenti russi, ucraini, insomma, tanti, tanti giocatori, solo per voi, solo per la nostra community. Dai raggiunti, non è tutto ragazzi, qui con me è Leonardo Sernicola, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!